Ma da dove nasce lo Jugendamt? Questa storia, se vogliamo raccontarla dall'inizio, dobbiamo tornare un po' indietro, dobbiamo cominciarla 70 anni fa e tornare alla Germania nazista. Anzi, ancora prima, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, quando la Germania diventa una democrazia parlamentare, l'imperatore se ne va e nasce la Repubblica di Weimar. Intorno c'è tutto da ricostruire. Macerie nelle città e campagne devastate da chilometri di trincee. I trattati di pace tolgono alla Germania territori, colonie, parte dell'esercito e l'aeronautica. La costringono a pagare i danni di guerra alla Francia, che ammontano a 226 miliardi di marchi, poi ridotti a 132, qualcosa come 25 miliardi di euro di oggi. Per una nazione sconfitta, che ha lasciato 2 milioni di uomini della sua futura generazione nelle trincee, è una cifra enorme. Per pagare quei debiti, il governo fa stampare a fabbriche di carta che lavorano giorno e notte nuove banconote, francobulli e altri valori. L'inflazione raggiunge livelli impressionanti. Nel gennaio del 1923, un chilo di pane costava 250 marchi. A settembre, un milione e mezzo. A dicembre, un chilo di pane costa 399 miliardi di marchi. È come se noi, a dicembre, con un miliardo e mezzo di euro, ci potessimo comprare un solo caffè. Gli operai sono pagati giorno per giorno e dall'ufficio paga corrono al mercato per spendere tutto e subito, perché un'ora più tardi i prezzi potrebbero essere raddoppiati e il giorno dopo le stesse banconote non valere più nulla. Eppure, sono gli anni di Thomas Mann, di Hermanesse, di Rilke, sono gli anni di Brecht, dei film di Fritz Lang, di Marlene Dietrich, sono gli anni della Bauhaus, dove passano ad insegnare Stravinsky, Bartok, Kandinsky, Klee. Lo Stato pensa agli aiuti che può dare alla famiglia e agli orfani di guerra, pensa al socialismo, pensa ad un'amministrazione della gioventù che possa aiutare chi ne ha realmente bisogno, pensa al bene del bambino. Per questo crea delle strutture con sedi comunali che abbiano il polso della situazione territoriale. Così tutte quelle parrocchie, tutte quelle associazioni che fino a quel momento si erano occupate della gioventù e della famiglia vengono poste sotto la direzione di una struttura laica dello Stato. Ma non hanno neanche il tempo di metterle in pratica quelle idee. Perché nel 1933, con una serie di misure assolutamente legali prese dal governo nazista, nel frattempo salito al potere, vengono distrutti definitivamente tutti i meccanismi del sistema democratico. E quello che doveva essere il rapporto diretto con il cittadino assume, non si sa come, l'aspetto del controllo. Si smettono gli abiti civili e si indossano le uniformi. Nel 1939 un signore di nome Heinrich Himmler, comandante dell'intera attività di polizia politica e segreta, decide di occuparsi della gioventù. E quando uno come Himmler decide di occuparsi di qualche cosa non c'è da stare tranquilli. Nel 1939 fonda lo Jugendamt. Lo stato razzista deve considerare il bambino come il bene più prezioso della nazione, aveva scritto Hitler. Il bambino è una risorsa immensa, possiede una ricchezza che nessun altro ha, cioè il futuro, e questo è un potenziale incommensurabile. E lo Jugendamt ha come scopo principale quello di curare il bambino, di assisterlo, di occuparsi del suo bene, il Kindeswohl appunto. Il principio fondamentale è quello espresso dallo stesso Hitler. Il bambino è il futuro della nazione. Il bambino, prima ancora che appartenere alla famiglia, appartiene alla grande Germania. E nella follia del nazismo a un certo punto decidono anche di andarseli a prendere altrove questi bambini. Vanno in Polonia e sottraggono alle loro famiglie qualcosa come 200.000 bambini. Alcuni dicono 160.000, altri 250.000. E li danno in affido a famiglie fortemente legate al regime. L'istituto dello Jugendamt è naturalmente cambiato da allora, ma l'impostazione da stato etico, quello stato, cioè che ha la pretesa di decidere al posto del proprio cittadino che cosa è il bene e che cosa è il male, quell'impostazione che era già presente anche prima del nazismo, beh quella non è mai scomparsa. La Germania ha bisogno di tutti i bambini, l'ha detto la signora von der Leyen, ministro della famiglia tedesca nel 2006. Il caso di Marinella Colombo, l'autrice del libro. Vi ricordate? La storia di Marinella Colombo non è molto diversa da quella di tanti altri genitori. quello che è diverso è che lei ha costretto gli altri a guardare. Perché? Perché il problema non è un litigio fra due genitori che usano i figli come strumento di ricatto, ma la politica di uno stato in materia di minori e il suo modo di operare. Marinella Colombo conosce un uomo tedesco, si sposano e hanno due bambini, Leonardo e Nicolo. Qualche anno dopo scopre che il marito la tradisce, dopo un periodo in cui si cercano di rimettere in piedi i pezzi del matrimonio, i due si separano. Lei rimane nella casa con i bambini, il marito va a vivere da un'altra parte. Interviene d'ufficio lo Jugendamt, che si presenta nella persona di Frau Oddly e sottopone i due bambini che hanno quattro anni e mezzo e otto anni e mezzo ad un'ora di interrogatorio ciascuno a porte chiuse. Di queste conversazioni, come di quelle che avverranno nei mesi successivi, non esiste nessun verbale o traccia, nessuna possibilità di essere confutate oppure verificate. In quel momento i genitori hanno la cura genitoriale congiunta e i figli vivono con la madre. Quando i bambini vanno a fare visita al padre, lei non può avere nessun contatto con loro perché, come dice lo Jugendamt, quando i bambini sono con il papà devono dimenticarsi della mamma. Alla prima udienza fissata per il divorzio, in tribunale, oltre a Frau Oddly, ci sono altre due persone. Il controllore delle visite, il signor Strohhalm, e il controllore del procedimento, il signor Boser, il terzo genitore. In Germania non si ha come da noi la potestà genitoriale, ma la cura genitoriale, cioè i bambini appartengono allo Stato e il genitore se ne prende cura. Ogni volta che i bambini vanno a fare visita al padre, trovano ad attenderli il signor Strohhalm, il controllore delle visite, che è in realtà un avvocato fiscalista che non ha nessun tipo di preparazione pedagogica e che dice a Marinella Colombo di parlare perfettamente francese quando poi si saprà in seguito che non capisce neppure una parola. Dopo un anno il tribunale non ha ancora emanato una sentenza di divorzio. In Germania non esiste come da noi una sentenza per quanto riguarda la separazione. Dicevamo che il tribunale ha solo sentenziato su aspetti marginali come un giorno in più o in meno di visita oppure l'organizzazione della settimana di Pasqua. Mentre le coppie tedesche ottengono velocemente il divorzio, le coppie binazionali entrano in anni di burocrazia. Perché? Perché se emetti la sentenza sei costretto a stabilire le regole. Chi ha la cura genitoriale, la residenza. Il giudice qualche tempo dopo dispone una perizia familiare e manda uno psicologo. Nella relazione il dottor Fick afferma che i bambini devono rimanere a vivere con la madre e che i periodi di vacanza con il padre non devono superare le due settimane. Il giudice continua a non emettere una sentenza di divorzio. La sola cosa che chiede con insistenza Marinella Colombo è se ha intenzione di rimanere in Germania. Ma il suo lavoro è lì e lei quindi non ha alcuna intenzione di andarsene. Ma poi avviene un cambiamento che sconvolge tutti gli equilibri. La società di cui Marinella Colombo è socio di minoranza viene assorbita da una grossa multinazionale e i nuovi proprietari le chiedono di andare a dirigere al doppio dello stipendio una nuova sede, visto che chiudono quella di Monaco, e le danno la possibilità di scegliere tra Milano e il Medio Oriente. E lei non ha la possibilità di perdere quel lavoro, visto che è l'unica a mantenere i suoi figli. Poi è di Milano, sua madre e suo fratello vivono lì. Dal primo gennaio sarà assunta dalla nuova azienda e da quel momento ha sei mesi di tempo per prendere il suo posto nella nuova società. Leonardo ha giusto finito la quarta, che in Germania è l'ultimo anno delle elementari, e Niccolò addirittura comincerebbe la prima. Ma comunicare l'intenzione di rientrare in Italia scatena un vero e proprio uragano.